Buongiorno, siamo con Camillo Maier, direttore commerciale di Comand Italia. Allora, che cosa presentate qui a CCTV e IP Security Forum? Presentiamo la nuova serie di centrali interfoniche G300 e G800, presentiamo la nuova serie di stazioni interfoniche da parete WS, queste sono le due novità principali, più un ritorno sulle vecchie produzioni, sulle produzioni meno recenti di Comand International. Qual è il valore aggiunto dei vostri prodotti? Noi puntiamo molto sulla qualità del prodotto, per qualità parlando di fonia, parlando di comunicazione, e l'intellegibilità che i nostri prodotti devono dare. La sicurezza di comunicare qualcosa che venga recepito con sicurezza dall'interlocutore è sicuramente il nostro lavoro, la nostra priorità. Grazie a Camillo Maier di Comand Italia.